ok ragazzi dobbiamo fare una colletta per scedire dobbiamo regalargli un amplifon perché non sente è un bel paio d'occhiali perché non ci vede caso strano caso strano scedire dopo che è comparso un certo profilo cioè ram e ti ha fatto una domanda hai detto che sei bannato sei un bugiardo un falso te lo dico chiaramente perché non eri bannato non lo sei non hai più risposto né lui né la mia domanda che ti ho fatto strano sai cosa sei scedire te lo faccio vedere ecco cosa sei tu qui rimane il problema che è tutto vostro tra le altre cose di poter verificare ciò che è riportato sulla teoria terrestre cioè della curvatura e la gravità nella realtà riuscite a rimettere il fenomeno che in teoria nella realtà questo è il tema i swing visto che tu ne sei tante di minchiate però ti sbanno puoi venire abbia un po di coraggio nessuno sa ti sbanno puoi venire se non riuscite a riportare ciò che è nella teoria a riportarlo esattamente nella realtà visto che conoscete tutti i fenomeni passaggi vuol dire che rimane una teoria di fatto non riuscite a farlo ma come avete tutte le spiegazioni e non riuscite è una teoria la vostra però vi attendo abbiate un po di coraggio dai su su o siete buoni sono insultare